Benvenuti a meteogiuliaci.it, freddo e vento oggi sull'Italia a causa dei forti venti di maestrale che seguono il nucleo di aria fredda che seguiva la perturbazione giunta ieri sull'Italia. Freddo e vento che comunque non porteranno altri fenomeni significativi, ma andiamo a vedere la nuvolosità prevista per oggi, vedete appunto un'Italia diciamo quasi sgombra da nubi eccetto l'estreme regione meridionale e una nuvolosità addossata all'arco alpino. Bene, che tempo farà allora nella giornata di oggi? Vedete molti simboli di sereno, un po' di nuvole sulle regioni di nord-est, nuvole invece sulle regioni meridionali con qualche pioggia sulla Calabria e sulla Sicilia, nevicate sull'arco alpino ma solo sulle Alpi di confine. Le temperature massime previste per oggi in calo sul nord Italia più o meno invariate sul resto della penisola. Bene, termino qui, vi ringrazio per l'ascolto, ancora un buongiorno.